L'annuncio ci ha un po' spiazzato di fatto, leggendo le pagine ieri dei grandi quotidiani nazionali pare che la Russia abbia in mano il vaccino anti-covid, chiamato Sputnik 5, no? V di vaccino in russo, ovviamente il simbolo così, tutti hanno pensato 5 o V, in ricordo di cosa? Della missione, insomma, dello Sputnik, quando c'era ancora un po' la guerra, la diatriba tra gli Stati Uniti di una parte e la Russia, dall'altra con la Russia che disse ciao, ciao America, ti ho superato, Lusso, Lusso, nella missione appunto spaziale e adesso appunto in memoria di quella grande missione, 1958? 57, 57, 58 c'è appunto il vaccino, ecco io le chiedo, professor Guglielmo Cevolin, ben ritrovato presidente di storia Limes Club, Ordenone, Udine, Venezia, c'è da fidarsi di questa Russia effettivamente? Ma allora, intanto oltre all'annuncio di Putin, in realtà ci sono stati altri annunci, sia Modi per l'India, sia Trump, sia anche Xi hanno annunciato qualcosa a ottobre, soprattutto per Trump, sarebbe la sorpresa di ottobre per cercare di vincere con quello, la competizione per le presidenziali, perché ovviamente sarebbe una sorpresa che potrebbe cercare di riequilibrare i sondaggi molto negativi. Intanto facciamo una riflessione prima, diciamo secondo un po' anche gli aspetti diciamo giuridici, nel senso che per annunciare un vaccino, oltre alla registrazione come ha fatto Putin, bisognerebbe anche fare la sperimentazione per la famosa fase 3, che è quella più significativa, con numeri molto elevati e che evita il rischio di effetti collaterali o di debacle poi. E molti vaccini infatti si fermano poi in questa fase 3. Però, ecco, io su questo versante devo dire che Putin si è giocato, primo il richiamo alla Unione Sovietica, secondo si è messo personalmente richiamando la figlia, anche se non ha detto esattamente quale delle due figlie ha sperimentato il vaccino, però insomma, quindi Putin che politicamente è una persona seria, nel senso che viene dai servizi segreti dell'Unione Sovietica, cioè è un politico un po' diverso dai politici che abbiamo richiamato prima, infatti penso che nella corsa alla sperimentazione, soprattutto per il virus, c'è anche un altro soggetto che abbiamo chiamato prima, cioè la Cina in realtà, la Cina si sta discutendo sul fatto che stia utilizzando i militari come cavie umane, quindi veramente siamo in una situazione anche per il virus e per il vaccino di una corsa come quella che è stata richiamata dal direttore, la corsa allo spazio. Mettersi in pool position su questa corsa che cosa significa? Beh, prima di tutto avere una royalties dal punto di vista economico notevolissima, perché? Perché vuol dire far ripartire la propria economia, vuol dire alzare i propri titoli in borsa, vuol dire avere un vantaggio anche di immagine e così via, ma sembra che il calcolo sia intorno ai 60 miliardi, proprio l'impatto diretto, senza più, senza gli effetti indiretti. E poi, oltre a questi soggetti che abbiamo visto, almeno quattro ne abbiamo citato in corsa per il virus, ci sarebbe anche l'Unione Europea o l'Europa in generale e su questo versante c'è Oxford con anche Pomezia e Anagni, per quanto riguarda il nostro paese c'è anche la ricerca dello Spallanzani, però ecco la notizia brutta è che grandi società farmaceutiche, sia francesi che tedesche, stanno in realtà dedicando la propria attività al progetto americano, non a progetti europei. Quindi vedete, ci svela tante cose questa vicenda della corsa al vaccino. È sicuramente credibile la mission degli Stati Uniti rispetto a quella europea. Ma la posta economica sicuramente gettata da Trump c'è. Ecco, l'Unione Europea è un po' più, diciamo, scassata su questo versante di fondi direttamente destinati alla ricerca o a una ricerca unita, ecco, complessivamente unita. E quindi su questo versante, insomma, l'altra riflessione però da fare è che tutti probabilmente stanno giocando con la sperimentazione e quindi il risultato si avrà probabilmente senza una sperimentazione generale e con dei problemi. E il problema quale sarà? La possibilità poi di richiedere dei risarcimenti del danno. Ed ecco allora che, nei confronti di un vaccino obbligatorio, ed ecco allora che nel nostro Paese, per esempio, è già emersa una situazione, e cioè quella di profilare il vaccino come volontario. Questo ha anche un'altra funzione, cioè quella di sottrarsi all'eventuale richiesta di risarcimenti dei danni perché il calcolo che viene fatto è che chi si oppone ai vaccini e chi è scettico alla fine in Italia sono intorno a un 15%, con la paura che c'è stata 15-20% e quindi in teoria se ci fosse un nuovo vaccino proposto, abbastanza scientificamente credibile, ci sarebbe un'adesione di circa l'80%, quindi non si verificherebbe quello che si è verificato con l'app Immuni, cioè l'adesione del 7%, ma ci sarebbe un'adesione molto elevata che consentirebbe un'immunità di gregge e quindi ci sarebbe una possibilità di applicazione di questo virus, di questo vaccino, che risolverebbe, attenzione, il problema del virus, perché per risolvere questa crisi del virus ci sono due cose, uno è il vaccino, l'altro delle cure. Noi stiamo adesso discutendo sul pericolo invece dell'ondata, della seconda ondata, prudentemente stiamo giustamente discutendo su questa cosa, ma c'è anche questa possibilità del vaccino e la credibilità di Putin come uomo politico che si è giocato, come abbiamo detto in prima fila, pur con tutti gli scetticismi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche dell'opposizione interna, qualche possibilità, qualche speranza c'è e la speranza è di risolvere il problema del coronavirus con un vaccino in mesi avanzati, perché sicuramente se ne parla per i primi del 2021, perché anche il brevetto che ha fatto Putin in realtà parla poi ufficialmente come dati di applicazione, anche se lui parla di ottobre mi pare, ma i dati ufficiali sulla base di questa registrazione si parla di gennaio 2021. Sì, ci sono tanti punti oscuri, poi se bisognerà fare un richiamo, due richiami, la durata, la protezione, perché ci sono tanti aspetti ancora di questo. Gli effetti collaterali. Eh, gli effetti collaterali, cioè si sta brancolando del buio, giustamente gli scienziati sono all'opera per fare il problema, ma non hanno poi dei test sui quali effettivamente poter... Però questo ci insegna come, quanto questa pandemia ci costringe a ridiscutere tutte le nostre convinzioni. Ha perfettamente ragione. Dopo Ferragosto, caro professore, ci saranno degli appuntamenti da segnalare per quanto riguarda la storia. Noi inizieremo un percorso proprio di riflessione generale sul virus con delle proposte, con il quinto seminario geopolitico e con un seminario che faremo a Vittorio Veneto. Buon Ferragosto allora a lei e a tutti gli appassionati della geopolitica e i membri di Istoria. Grazie, grazie professore per essere stato il nostro compagno.